In fatto di tecnologia ibrida, Lexus, il marchio di lusso appartenente al gruppo Toyota, ha molto da insegnare. Sotto i riflettori dello stand parigino, ha fatto bella mostra di sé il nuovo SUV NX, già disponibile anche sul mercato italiano. L'NX è la prima europea, di fatto arriva nel momento in cui lanciamo sui mercati di tutta l'Europa. In Italia, incrocio le dita, ma ha avuto un grande successo, una grande risposta di pubblico, perché in qualche modo da una parte l'interpretazione del lusso di Lexus, quindi c'è veramente la cura di ogni singolo dettaglio, con l'anima tecnologica del gruppo e quindi l'ibrido. Qui abbiamo tanta cavalleria, un'anima che può essere anche estremamente performante. Da un punto di vista dinamico abbiamo delle vetture che ormai sono a un livello superiore alla concorrenza, ma soprattutto all'interno di una Lexus c'è un piacere di guida unico, che è legato da una parte al librido, ma sicuramente legato a una capacità di erogazione della potenza che è strettamente pensato per un pubblico primi.